Sì, per me i magazzini di Gabrielli e San Benedetto erano il luogo in cui andare per visitare un po', per fare un po' il compiacere, vedere qualcosa di nuovo, qualcosa di interessante e di fronte c'è la fermata del Purnal, mamma voleva che prendessi il Purnal per evitare di tornare troppo tardi la sera. Il messaggio del governo, che ha detto, è lasciare lavorare chi vuole lavorare. Sì, questo è il nostro intendimento, noi crediamo convintamente che si debba poter liberare l'energia di chi vuole lavorare, di chi vuole produrre, di chi vuole crescere e questa è la nostra missione, fare in modo che imprese familiari, solide, sane, con principi, imprese che possono in questo momento cambiare un territorio, possano crescere, possano svilupparsi, possano portare il loro modo di vivere, il loro modo di lavorare anche fuori dal proprio territorio. Magazzini Gabrielli ha sempre, la società Gabrielli ha sempre lavorato in questo modo, è presente sul territorio in maniera sicuramente capillare, ha sempre svolto un'attività vicina alla persona e questo crediamo che sia un valore aggiunto, che non possiamo perdere ma insi valore al zero. Grazie.